ciao a tutti oggi vediamo l'importazione cioè come importare file esterni all'interno di after effects ho preparato un progetto intitolato lezione 3 all'interno di una cartella lezione 3 all'interno di questa cartella ho anche una cartella chiamata footage all'interno della quale ho una serie di file di diverso tipo file di grafica video vediamo come si importano all'interno di after effects allora ci sono vari modi tutti efficaci allo stesso modo posso andare nel menu file e scegliere la voce import file navigo fino alla cartella footage posso scegliere un file per esempio auto arancione e cliccare sul bottone open se siete su mac oppure import se siete su un pc ed ecco che il file è stato importato lo vedete nella cartella di progetto oppure potete usare il tasto destro direttamente sulla finestra di progetto e sempre il menu import scegliete file potete scegliere un altro file scegliamo girasole open potete fare doppio clic direttamente su uno spazio vuoto della finestra di progetto così doppio clic si riapre di nuovo la finestra potete scegliere questa volta che ne so un file video e importate oppure addirittura è possibile trascinare direttamente un file dalla cartella direttamente nella finestra di progetto per esempio questo png se selezionate uno di questi file avete una piccola anteprima in alto con le caratteristiche di quel file cioè la larghezza altezza la durata in secondi se è un video come in questo caso eventualmente altre caratteristiche ora se volete invece visionarlo in un monitor aprire precisione nel monitor footage basta che ci clicchiate due volte sopra per esempio su questo file si apre il monitor footage ora al di là di queste cose la cosa più importante da tenere a mente è che l'avere importato questi file non li ingloba all'interno del progetto voglio dire questi file sono collegati direttamente con i file originali e per dimostrare questo potrei per esempio spostare uno degli elementi originali che ho importato dalla cartella in cui si trova in un'altra posizione nel computer per esempio sul desktop e istantaneamente all'interno di after effects comparirebbe il messaggio di errore cioè attenzione il file che prima si trovava nella cartella footage ora non è più lì e quindi in after effects quel file non è più visibile ed è rappresentato da questa serie di barre colorate cioè il file che voi vedete in after effects collegato con il file che si trovava in footage ora ha perso il collegamento col file originale per cui se volete ripestinare il collegamento potete fare in questo modo cioè cliccare col tasto destro sul file importato e scegliere la voce replace footage e andare a rintracciare il file che ora si trova sul desktop e ripristinare il collegamento ok adesso il file che io vedo in after effects è collegato con il file originale che sta sul desktop insomma tutto questo giro per farvi capire che i file che voi state usando sono separati dal progetto per cui dovrebbero rimanere sempre nello stesso posto dal quale è stato fatto il collegamento in importazione quello che vi consiglio io è di creare una cartella che contiene tutto il materiale che volete usare nella stesso posto dove si trova il progetto c'è all'interno della cartella lezione 03 dove c'è il progetto lezione 03 c'è anche tutto il materiale contenuto in un'unica cartella in modo tale che non venga perso all'interno del computer altri dettagli per quanto riguarda l'importazione che per esempio si possono importare più file contemporaneamente per esempio posso importare sempre dalla stessa cartella più file cliccando su un file e poi se primo il tasto shift posso selezionare un altro file e contemporaneamente selezionare tutti i file che stanno tra il primo e l'ultimo selezionato e importarli naturalmente oppure posso selezionare file successione con il tasto controllo command se siete su un mac in modo tale da poterli selezionare in qualsiasi ordine questo avevamo già importato anzi questo no l'auto rancione era già importato ecco un'ultima soluzione che forse quella più comoda di tutte è tornare in modo della finestra import e selezionare addirittura una cartella per esempio tutta la cartella footage e se siete su un pc cliccare sul tasto import folder e se siete sul mac di nuovo il tasto open e avere tutta la cartella importata con tutto il materiale dentro questi sono i passi fondamentali dell'importazione nei prossimi tutorial però prenderò anche in considerazione più in particolare i tipi di file che vengono importati perché possono essere video grafica a livelli a multi livelli e quindi per quanto riguarda l'importazione in generale questo è tutto ciao alla prossima